Bella Gazzettari! Ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Avrei voluto fare un video dove vi portavo buone notizie, volevo parlare dei messaggi di amore fraterno tra musulmani, tra Hamzachimaev e Rachmanov, ma è successo un qualche cosa che mi obbliga a cambiare il topic del video ed è una notizia triste, ragazzi, è una notizia molto triste per noi appassionati di MMA. Ovvero, è stato praticamente ufficializzato l'incontro di box tra il gangster di Stockton Nate Diaz e lo youtuber pseudo-boxer Jake Paul. Ragazzi, incontro che è stato ufficializzato, lo ha detto sia Ariel Elwani, poi lo ha confermato Nate Diaz sul suo profilo Twitter, mi sembra, e poi ovviamente anche Jake Paul. L'incontro si farà il 5 agosto proprio di questo 2023 a Dallas, saranno 8 round e combatteranno i due, teoricamente, nelle 185 libre e ovviamente sarà un evento pay-per-view che si potrà guardare su DAZN. Ora, sarei molto curioso di capire chi andrà a spendere soldi per guardarsi questo evento, ma considerando che c'è stata gente che si è guardata anche quelli precedenti, sicuramente qualcuno se ne andrà a comprare, se ne andrà a comprare queste pay-per-view e qualcuno si andrà a guardare questo incontro. Ragazzi, sono deluso, sono amareggiato e mi girano i coglioni non poco, perché Nate Diaz è comunque stato un elemento di spicco della UFC negli ultimi, nell'ultimo decennio, ha avuto un hype clamoroso dopo aver battuto Conor McGregory in quell'incontro storico, è un fighter che comunque sia si è fatto apprezzare davvero dai più, non è stato un fighter super super vincente, perché in carriera si è portato a casa parecchie sconfitte, ma è sempre stato uno di quelli che riusciva a raccogliere il grande pubblico, è sempre stato uno di quelli che ci regalava incontri emozionanti, è sempre stato uno di quelli che non ha mollato mai niente, ragazzi, e per questo avrà sempre la mia stima. Dispiace? Sì, dispiace, perché ovviamente prenderà il suo carico di hype e lo porterà a alimentare il fenomeno Jake Paul, che è un fenomeno mediatico più che sportivo, anzi sportivamente non è fenomeno proprio di niente, Jake Paul che sta più che altro seguendo la stessa striscia che stava seguendo negli ultimi incontri, ovvero sia lui che il fratello, perché il fratello non è che sia meglio di lui, sono entrambi fatti della stessa pasta, secondo me, ovvero andare a ricercare grandi nomi a fine carriera che comunque si portano indietro un carico di hype per sponsorizzare i loro incontri, pagargli una fraccata di soldi e sperare che qualcosa succeda. Io ragazzi, che cosa vi devo dire? Mi dispiace, a me dispiace molto perché io onestamente da romantico di questo sport speravo che ci sarebbe stato un cambio dell'ultimo minuto, che alla fine Nate sarebbe riuscito a firmare con la UFC un rinnovo di contratto, fosse stato anche per due o tre incontri, io speravo che qualcosa del genere sarebbe potuto succedere, che avrebbero potuto raggiungere un agreement, invece ragazzi, 0-0-0. Tra l'altro lui era anche in trattativa con Bellator, se non mi sbaglio, e poi anche di quello alla fine non se ne è fatto niente. Sono curioso di vedere le stime ufficiali dei payout, quanti soldi prenderà Nate Diaz, perché se ti svendi a un fenomeno mediatico come Jake Paul ti devi far pagare a peso d'oro, ma davvero lo spero per lui perché sta regalando la sua visibilità a questo soggetto. Ora prima però di andare un attimo più nel dettaglio perché ci sono alcuni argomenti interessanti di cui parlare, ovvero questione steroidi anabolizzanti, questa volta amico mio Jake Paul, li fai test antidoping o li salti un'altra volta? E poi Dana White, perché tutto questo è successo grazie a Dana White. Dana White ha spinto Nate Diaz verso un incontro di questo tipo, e sta spingendo alla stessa maniera Francis Ngannou nel fare una roba simile. Però prima di addentrarci in questi discorsi, vi ricordo come sempre ragazzi lo sapete, spolliciate per supportare i miei video e il mio lavoro ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere se come prossimo documentario volete la Diaz Army oppure Kabibore Nazionale, Kabib The Eagle, Nurmagomedov. Uno dei due probabilmente inizierà questo weekend, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti e uno dei due uscirà a breve. Quindi mi raccomando fatemi sapere quale preferite, quantomeno quale volete vedere per primo. Detto questo, partiamo proprio dal discorso steroidi anabolizzanti. Ah, tra l'altro, prima che mi scordo, ovviamente questo verrà, questo documentario, o su Nei Diaz, sui fratelli Diaz più che altro, oppure su Kabib Nurmagomedov, verrà unito alla playlist all'interno del canale che potete andare a ritrovare se fate un salto sul canale, insieme a tutti gli altri fatti fino adesso, Isla Desagna, Pereira, Hamza Chimaev, Leon Edwards, Islam Makachev, John Jones, Francis Ngannou e tutti gli altri. Quindi, se ve ne siete perso qualcuno, se non ne avete visto nessuno, mi raccomando, andate sul canale e recuperateli. Allora, partiamo dalla questione steroidi anabolizzanti. I test stavolta li facciamo o non li facciamo, amico mio? Jake Paul, stavolta i test li fai o non li fai? Non che mi cambi niente, perché io sono sicuro che ti bombi come un cavallo, per carità. Però un po' di, come dire, di onestà su questo punto sarebbe qualcosa di gradito, visto che dici sempre che te le bombe non te le fai, però ti rifiuti categoricamente di fare qualsiasi tipo di test. Comunque, detto questo, passiamo ora al discorso Dana White, che è il discorso che mi preme più di tutti, perché è colpa di Dana White se queste cose succedono. È un Dana White che è avaro. Tasche davvero corte, corte, corte. Pur di non dare un rinnovo a una leggenda, uno che davvero ha aiutato concretamente nell'ultimo decennio a costruire la UFC così come è adesso, cioè davvero te me lo vai a spingere verso una money fight contro Jake Paul. Va anche contro i tuoi interessi, pelatore di Brazzer. E se non lo capisci, a breve, i fatti mi daranno ragione, perché incomincia a spingere Nate Diaz, incomincia a spingere Francis Ngannou. Quando gli altri fighter che combattono per due lire all'interno della tua promotion si accorgono che potenzialmente, perché tanto a questi qui Jake Paul, ma a tutti questi tipi di personaggi, gli va bene a qualsiasi cosa. Basta che ci sia il nome, non importa che tu sia un fighter forte, che sia un pugile, non importa niente, basta che gli porti visibilità. E allora io vi dico, un qualsiasi fighter di medio livello della UFC, medio alto, rimaniamo sul medio alto, che capisce che può fare una vagonata di soldi con un solo incontro contro un pagliaccio come Jake Paul, e che sono più soldi di quelli che può condannare un'intera carriera in UFC. Se questo tipo di personaggi incominciano a mollare la tua promotion, allora lì due domande te le devi incominciare a fare, perché lì davvero incomincia a diventare pericoloso. Io ragazzi ho un anno e passa che vi dico sta cosa, e molti di voi nei commenti mi dicono, ma che cazzo dici, ma non è assolutamente così, la UFC è la UFC, la UFC rimarrà sempre il top. No ragazzi, non è così assolutamente, perché qualsiasi azienda, per quanto pioniera nel suo settore di riferimento, ha un inizio, ha uno sviluppo e ha una fine, qualsiasi azienda ha un declino, ha un certo punto, soprattutto se si aprono le porte ad altre aziende, aziende se la competizione aumenta, e in questi anni la competizione sta aumentando di brutto nell'MMA, la PFL sta diventando sempre più forte, Bellator sta investendo sempre più pesantemente, One, vabbè One ormai che cosa ne parliamo, solo in Europa e negli Stati Uniti la gente non si fila One, perché nel resto del mondo la UFC è seconda a One, quindi attenzione, attenzione perché questa strategia è molto pericolosa, a continuare a sottopagare la gente, e a spingerla fuori dalla promotion, può diventare un'arma a doppio taglio, perché quando questi capiscono, che ci sono soldi anche fuori dalla UFC, e non lo so poi le cose come si mettono amico mio, non lo so assolutamente, comunque sia, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti, che cosa ne pensate, ha del pessimo, terribile, disgustoso incontro, tra Nate Diaz e Jake Paul, proprio robe inenarrabili, B, se secondo voi Dana White ha parte di colpa in tutto quello che sta succedendo, e soprattutto se altri fighter, vedendo i soldi che si riescono a fare fuori dalla UFC, potrebbero incominciare a pensare e dire, ma perché io non mi trovo un personaggio stile Jake Paul, o addirittura cerco di autopromuovermi, in fin dei conti, se mi va male, sì mi va male, però magari mollata la UFC, entro a One, o a Bellator, o a PFL, o quello che sia, e se mi va bene con un incontro, ho guadagnato il doppio di quello che avrei guadagnato, con una carriera intera all'interno della UFC, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, non scordatevi di spollisciare duro ragazzi, di attivare la campanella, per non perdervi i prossimi video, e soprattutto mi dovete fare sapere, visto che questo weekend devo iniziare, Diaz Brothers, la Diaz Army, o Khabib The Eagle, Nurmagomedov, scrivetemelo qui sotto nei commenti, ci vediamo domani con un prossimo video, ciao, belli!